salve a tutti ragazzi e benvenuti a shiva in questo nuovo video di minecraft siamo sulla edio fenieri moddata con aggiunta di qualche mia mod e adesso vi dato che è passato un po di tempo ogni tanto entravo e facevo qualcosa e quindi vi farò vedere purtroppo questa è la seconda volta che registro il video perché non mi ha registrato il video ma solo l'audio quindi cosa andremo a fare? rivado a rifare le stesse cose che ho fatto prima e dopo le butterò così vi faccio vedere cosa ho fatto non importa per i materiali pazienza non importa sono andato a recuperare in questi tempo lungo che sono stato che non ho portato avanti questa serie intanto entravo un'oretta e facevo qualcosa ma veramente ho usato un'infinità di picconi tantissimo materiale ho recuperato purtroppo diamanti sono messo veramente male non ne ho trovato neanche uno o forse uno non ricordo comunque ve li farò vedere tutti con questo ho trovato un po di oro e dopo l'ho duplicato grazie a questo perché se no era un casino dunque qua ho chiuso ho fatto il soffitto mi sembra abbastanza carino non erano però adatte ma a me mi va bene così ho fatto dei drover dove ho messo della roba come vedete non c'è tantissima roba perché alla fine il carico ne ho trovato 16 quelli che ne ho trovato molti sono questi il ferro che ne ho trovati 672 1124 copie perché è quello che si trova più facilmente e il tin è quello che si trova più facilmente questi due sono quelli che troviamo sempre e infatti ho scavato quasi sempre in alto per potermi trovare anche un po di ferro ma di ferro ne ho trovato la metà va beh non importa comunque adesso possiamo duplicarli si è pochissimo osmio adesso non mi interessa nickel ancora meno questo pochissimo comunque per quello che ho scavato ho preso veramente poco l'ho preso lato di fortuna meno da tanto e ne ho preso molto bituminio su 262 e allorite 33 urani 20 quindi pochissimo ho fatto poco 116 di lingotti 74 soltanto perché l'ho duplicato sennò col cavolo che infatti qui vedete di oro non 16 mi è rimasto pochissimo ho messo 16 qui di tin ne ho messo 88 perché ho fatto un sacco di bronzo mi è rimasto un po di copper mi è rimasto un po di bronzo qua come vedete qua stavo facendo un po di roba vedete ho cotto tutta la roba che sono riuscito a macerare così a duplicare ma c'è voluto tanto tempo con l'extracto finalmente ogni sticchi di questo me ne da 3 quindi ogni volta che andavamo andavamo a recuperare di là che ne dava 30 32 io ne facevo 90 quindi almeno questo si aveva posto il metalformer ho fatto quello che dovevo fare adesso tanto devo rifare tutto da capo quindi il generatore e il compressore ok allora questo sono riuscito a far andare purtroppo io mi basavo su un vecchio disegno e quindi per quello che non funzionava il nuovo disegno così e vabbè ce l'ho fatta ho fatto una marea di questi che questi qui li ho fatti con questi qui che questi qui li ho fatti con il come si chiama ve lo faccio vedere scusate il sbagliato pulsante come al solito questo qui si faceva col metalformer che mettendo una piastra di queste che a sua volta si metteva sempre col metalformer una piastra un lingotto ti dava questo poi con lingotto mi dava questo poi dopo ho fatto col pannello di vetro che si fanno con sei disporsi tre e tre di vetro ti da uno di questi pannelli ho fatto questi questi qua erano vuoti li ho dovuti mettere nel compresso il compresso li caricava di aria che finalmente li mettevo qua mettendoli qua faccio vedere vada è rimasto uno e lo mettevo qua lui lo caricava una volta caricato li mettevo qua e lui dava l'aria compressa grazie all'aria compressa e 64 lingotti di ferro lui mi ha creato con molto molto lentamente ci ho messo un mesetto tutta andata tutte le volte che entravo uscivo fare un po di prove e raccoglie un po di materiali è un mese che ci sto dietro normalmente ci vorranno 4 5 ore per fare 64 pezzi di steel ce ne vuole tante di ore veramente tante qui ho messo le coil piano piano non ho messo subito perché non avevo materiali e per fare le coil non è che ci volesse tanto è però le ho fatte e niente alla fine ce l'ho fatta questo lo sposterò e qui c'è poca roba e niente come vedete dopo ho messo altra roba qua e tutta la roba che mi servirà ne ho trovata mano mano ma molto l'ho anche buttata qui sono mille quattrocento cinquecento novecento duemila e poi questo qui che serve per fare il concime la resta non trovato abbastanza mille trecento per fortuna pezzi e non stack questo qui è mille ottocento pezzi di e poi vabbè così ne dai non è che ho preso tanto ho scavato molto di più perché ho buttato molto più roba via perché alla fine come vedete ho svuotato tutto questo è l'unico carbone che mi è rimasto non mi è rimasto più carbone ma veramente ne avevo sei di stack di blocchi di carbone ne ho usato tantissimo qui ho messo un po' a posto e ho riempito qua qua si è fermato e qui tutta la roba che mi è rimasta la roba da mangiare allora sono riuscito a fare toast che si fanno così e che si fanno così giusto ma io ho trovato un'altra cosa che mi da questi che si fanno esattamente con due di questi ti da due di quelli quindi con uno faccio un panino mi da meno il panino è per carità perché questo da tre cosciotti e tre di fame rispetto a questi che da quasi quattro cosciotti e sette otto di fame quindi è meglio questo però di questi ne faccio di più quindi e vabbè pazienza mangiare di più andrò più volte in bagno ok allora dovrò dormire se non mi riempio di mob ho spiegato tutto ho fatto il pistolotto speriamo che stia registrando ma sono meno un colpo e niente adesso andremo a fare le cose che il mio obiettivo è fare il solar panel la bat box che ho già fatto ma vado a rifarvi perché non mi è molto registrato e il piccolo della tinker di bronzo e il piccolo della tinker di ossidiana bene non so se faremo tutto in sta puntata ma andiamo a iniziare prima di tutto mi serve la bat box la faremo dopo facciamo solar panel ho avuto una brutta notizia perché mi sembra piaciuto fare l'advance solar panel che adesso vi faccio vedere solar panel che normalmente si faceva con 9 di questi che non è che sia facilissimo fare questo ma il problema che me l'hanno cambiata la resmi perché il pack è stato aggiornato e io l'ho preso un po del dietro invece di fare 9 di questi che era molto più facile c'è da fare un morire di roba e io questa roba qui non ce l'ho cioè ce l'ho ma è un casino farla in durium adesso io non mi ricordo neanche come si faccia sinceramente si trova e me l'ha reso molto molto difficile non so come fare a fare l'advance ci penserò troverò un'alternativa purtroppo il pack è stato modificato pesantemente rendendolo ancora più difficile e va bene ci proverò lo stesso in fondo non abbiamo mica fretta va bene torniamo noi non prendiamo di paghiamo troppo facciamo questo la batteria per fare la batteria avevo già preparato i materiali perché avevo già registrato vabbè non importa una l'abbiamo fatta poi avete visto come si fa e non è che sia tanto difficile fare una batteria ci vuole la tin che si fa che vi ho fatto vedere come si fa con due pezzi di resto un tin cable che si fa con naturalmente le metal former un pezzo di tin e lui ti ne fa tre molto molto semplice quindi andiamo a fare il generator il generator si fa con a cui mi servono questi per fortuna ne ho fatti un po ma porca miseria me ne serviranno tanti non basteranno assolutamente allora diamo un po ecco qui questo è fatto quindi andiamo a fare il generatore il generatore mi serve un'altra fornace vai con la fornace e adesso possiamo fare il generatore generatore fatto ok andiamo avanti e adesso facciamo il resto mi serve con il ferro scusate con il con questo allora andiamo nel maceratore togliamo questo togliamo questo e 3 1 1 2 e 3 per adesso mi serve energia dato che non sta andando e l'aiuterò con questo almeno così mi fa i tre adesso vado a prendere tre pezzi di come si chiamano ci arrivo è di questo 3 ok ho l'impressione si ha vendito qualcosa non mi ricordo va bene adesso proviamo devo prendere questi uno l'ha fatto da che piano piano ce la facciamo sono qui veramente ci mettiamo una vita e poi c'ho solo al panel purtroppo colto solo al panel è una vera sega non fa niente qui ha finito dopo devo raccogliere un po' tutto mettere a posto ma dopo lo farò da che siamo quasi tra così facciamo anzi qui mettiamo il ferro che l'avevo messo qua così meno mi libero scusate lo shift non mi va bene ce l'ho fatta dai o tre adesso facciamo il pannello finalmente solare ma prima di fare questo vedete adesso non è più rosso se vado qua il rosso mi dice quello che mi manca mi mancano questi i circuiti che devo fare due uno e tanti saluti a tutti mi manca una piastra e un cavo allora i cavi li avevo messi da fare qui un cavo perché minati 55 al cavi ce ne avevo qua un cavo qua ok poi mi serviva vi ha detto mi sono già scordato ok adesso mi sono ricordato bene proviamo a fare sto avanzarsi quit mi servono altri tre due cinque di questi cinque allora eh me ne mancava uno ecco oh ah ma lui mi piccolo bug ecco perché non funzionava adesso ho capito cos'è successo scusate ma c'era un piccolo bug che andava in conflitto con questo perfetto adesso ce li ho adesso posso farlo scusate la piccolo problemino ma non ci posso fare niente e vai anche secondo il fatto adesso possiamo fare il nostro pannello solare ottimo ecco l'ho rifatto da capo il pannello solare adesso mi piace vedere dove l'ho messo scusate il telefono l'ho messo l'ho voluto mettere di fuori in modo da prendere il sole lui così sta andando vedete la prende allora siccome l'ho già fatto lo butto via pazienza per la roba non sto a fare un altro poi a massimo lo farò più avanti ne faccio due sarebbero meglio fare due ma devo farvi vedere come si faceva pazienza lo perdo amen e poi questo qui praticamente collegato dei cavi che andavano direttamente alla batbox che vi farò vedere come fare adesso andiamo a fare la batbox bene 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 andiamo a vedere un po come si fa la batbox dunque devo vedere la batbox devo scriverlo batbox no ecco il cavolo che la vedo ok batbox eccoci qua la batbox è questa non è difficile da fare alla fine ci vogliono tre batterie tre batterie le vado a fare subito e posso fare solo una perché mi manca questo logicamente uno due facciamo quattro cinque perché non so esattamente quanto mi servirà adesso li faccio tutti e tanti saluti a tutti una me l'ha data tre mi hanno detto giusto vediamo se me ne dai tre no me ne dai due perché vi manca la reston eh che felicità andiamo a prendere la reston come vedete di roba ce ne vuole tanto in questo pack ma veramente troppa è una cosa esagerata da quanta materiali si vogliono più ne prendi più te ne servono e quindi non c'è niente da fare e qui siamo al terzo poi batbox si fa oh abbiamo fatto la batbox adesso io andrò a buttare perché l'ho già fatta e vi faccio vedere ehm cosa ne ho fatto per riuscire a alimentare il per avere uno storage capite uno storage eh così quando non lo uso lui mi carica e comunque siamo a posto allora io ho fatto una cosa molto semplice e tranquilla adesso vi faccio vedere allora ho messo il pannello solare che va a raccogliere che è collegato con un cavo alla batbox la batbox vedete sta accumulando energia fino al massimo di 4000 eh 4000 40.000 EU una volta che ha accumulato quando servirà non lo andrà a prendere con questi cavi direttamente da qui quindi ho un po' di storage una volta che avrò eh riempito diciamo il il la batbox avrò un po' di autonomia in più e la cosa non mi dispiace per niente allora andiamo a rimettere a posto le varie cose eh qua così qua così qua così e qua così ok adesso abbiamo capito come averlo fatto ehm quindi questo qui mi garantirà un po' di energia perché se no io non posso continuare a usare sempre sempre vedete che sono tutti carichi adesso questo qui non sta andando perché sta comunque accumulando e non sta usando niente bene oh e abbiamo fatto anche la batbox abbiamo fatto il solar panel alla batbox e adesso andiamo a fare a mettere un po' a posto perché c'è un casino assurdo fotonico e incredibile vediamo un po' a posto le varie cose eh non mi serve nient'altro no mettiamola qua adesso per il momento siamo a posto la questa no grazie non mi interessa averla qui e siamo a posto ok eh io adesso direttamente la tinker vi faccio vedere cosa ho fatto eh questo lo toglierò perché non si può guardare ho fatto i tool della tinker grazie a questi potremo creare i nostri primi attrezzi allora qua cosa ho messo poca roba ho messo l'aluminum brass che mi servirà eh da mettere da fare gli stampi come ho fatto lo stampo di lingotto come nel scorso episodio questo è il pane e questo sono le poche cose che mi sono rimaste allora qui l'ho sfruttata completamente intanto vado a mettere la luminos perché non mi l'aluminum l'aluminum non mi viene mai perché non mi ricordo se da mettere lo stampo come si fa allora faccia io ho eh grazie a questo dov'è utility vede vedete utility questa eh stensi stable possiamo decidere grazie a queste che si fanno così con due pezzi di legno e due batecchi possiamo decidere cosa eh fare gli stampi base diciamo pre base più che altro perché questi non basteranno ehm per poter fare quello stampo finale allora io ho preso per fare piccone mi è servito questo mi è servito eh la tool rod che dovrebbe essere il tool rod si e è questa qui che eh sono i pezzi per fare il piccone e come lo come lo sappiamo questo sappiamo che basta che basta andare qua e lui fa vedere cosa il per creare il piccone cosa serve adesso grazie alla mod che si chiama la tinkers se non sbaglio fa vedere eh fare varie cose eh grazie eh un attimo per varie cose vari tool eccetera che sono questi li possiamo fare in vari modi i vari pezzi per fare i vari pezzi appunto ehm ci manca possiamo farli in varie tipologie di materiali come vedete io avrei deciso di farlo uno in bronzo perché il bronzo perché il bronzo mi è molto facile farlo visto che i materiali ne abbiamo tanto e quindi è facile ripararlo e la cosa non mi dispiace e uno lo vorrò fare di ossidiana perché grazie all'ossidiana che la trovo qua come vedete mining level cobalto con questo possiamo scavare qualsiasi cosa anche il cobalto bene e questo mi servirà per quello e invece quello per l'aluminum eh per il bronzo bronze piccx e eh scava il diamante cosa vuol dire che scava il diamante quindi posso scavare anche l'ossidiana quindi mi servirà l'ossidiana per poter riparare il tool è una cosa un po' così però si fa bene adesso ho fatto i vari stampi che è questo che adesso lo vado a usare un attimo io lo metterei scusate ho fatto una cacata lo metterei qua e mi serve da fare lo stampo lo stampo è molto semplice mettiamo un materiale a caso che è questo lo prendiamo lo andiamo a mettere qua e con l'aluminum lo facciamo scendere qui ok grazie a questa cosa noi vedi mangerà il pezzo e avremo lo stampo per il piccone grazie a questo me ne è rimasto un po' bene grazie a questo noi potremo fare finalmente il bronzo col scusate ho sbagliato e col bronzo ne mettiamo non lo so tre boh non mi ricordo neanche più una volta che sarà fuso noi potremo fare la nostra testa di piccone di bronzo che potremo scavare anche i diamanti ed è cosa molto interessante perché grazie a questi tools potremmo metterci di incantamenti senza usare gli incantamenti e adesso vi farò vedere tre lingotti bronzo ok adesso io faccio così sperando che basti non so esattamente quante le volesse si le voleva due e finalmente abbiamo la testa di piccone vai allora la road la voglio fare la road la voglio fare non in questo ma la voglio fare in questo ok e quindi abbiamo anche il secondo pezzo il terzo pezzo non mi ricordo più sinceramente il terzo pezzo con cosa è meglio mi sembra la carta la carta che desse qualcosa ma la carta non posso farla adesso invece sì che posso farla perché ho fatto un impianto industriale qua allora dormiamo un attimo bene grande così ho fatto se vi ricordate una piantagione di cane da zucchero devastante e grazie a questo possiamo fare la carta oh ne sono contento vedete che serviva prima poi l'ho detto ok ma io penso che così basti 12 adesso prendiamo un altro po giusto per non è rimasto niente qui tanto crescono bene 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 sono contento e ragazzi c'è tanto da fare tanto tanto da fare bene adesso facciamo così e vediamo un po cosa fare la carta la carta si fa se lo ricordo male così vero ok adesso questo non mi interessa lo butto via se no troppo roba nell'inventario e facciamo una bella cosa lo facciamo di carta molto semplicemente di carta di carta basta fare così no non era questo ma era questo e pop oh adesso noi andiamo ho sbagliato andiamo qua e e facciamo il nostro bel piccono vai così e vai così finalmente abbiamo nostro piccolo lo chiamiamo spacca tutto no non è spacca tutto perché è l'altro spacca diamanti ok questo è spacca diamanti il nostro spacca diamanti pronto lo vorrei fare con la di maiuscola possibilmente non voglio essere perfetto ho fatto una cacata non me lo fa fare maledizione ok fatto e questo è il nostro il nostro gran piccone non ho messo la mod della tinker per livellare dopo lo metterò non c'è problema adesso questo piccone qui in teoria mi può spaccare spaccare già ok non mi sta livellando attacco modifiche 4 diamond attacco principale si va bene va bene va bene ok lo mettiamo a oddio mi ha messo il coso qui scusate stavo riflettendo è ok e questa è andata dopo faremo anche quello di ossidiana intanto abbiamo fatto questo non è male grazie a questo si auto ripara perché ecological ecological vuol dire che ogni tanto ma proprio non ce la faremo farlo riparare da soli comunque dobbiamo fare una bella stencil table con la stencil table vi faccio vedere cosa succede scusate con la tool forge che è questa noi mettiamo il piccone qua gli mettiamo il bronzo e lui ce lo ripara quando si romperà ma questo è una cosa che faremo poi bene io direi che per questo video abbiamo fatto tante cose e ci possiamo salutare qui nel prossimo episodio faremo altro farò il piccone di ossidiana e dopo andremo a provarlo un attimo metterò anche la moto che mi farà livellare così vi spiego anche come funzionano gli incantamenti e proseguiremo avanti con le altre cose bene ragazzi direi che questo video è tutto noi ci vediamo un po' sul video con minecraft della age of ingegneri moddata con aggiunte delle modde e niente vi do un saluto e si va ciao ragazzi grazie grazie grazie